appena esco 10 giorni non stop 240 ore in giro 24 per 10 senza dormire senza mangiare da notte saluta a fofest festivo saluta a fofest festivo saluta a fofest festivo saluta a fofest festivo non fermo più nel calar modo purtroppo ce la fa scleratissimo proprio a momenti sposto la stanza e vado all'altra parte e faccia bene dei uni 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 sto che bro sto che bro sclerato ma c'è una televisione sono sentito a cuore d'acconti e cavolo devo che io voglio prendo un oloio no 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 ma ne vuoi ma ne vuoi che mi hanno detto scusate ragazzi i miei fanno e tu ma ne vuoi ma ne vuoi perché lo valisco tutta la robana e ma ne vuoi che la cambulietta di mio padre e faccio il mio padre e tu ma che ne sei reso ma levo peggio ma metto peggio ma jako me levo la to me levo la to ma sta te venga ma sta te venga grew a te venga vuoi che non bai vuoi che i me wave gestures il mio madre è dai una fraz NosAlene Lu 그렇지 www.pistoga.it poco attono pa la torcia dell'ainte non� come c'era strontata che mi sono troppo suopto, che mi sono andato a fare croce, tu pensi nel picco e la prossima festa mi fanno una cortesia, e speriamo che l'ha fatto enorme, dice, oh qui? Quanto è lo che non ha causato il ragazzo, sai? E ha fatto animatori a poco, 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 sai? E ha spaccato, è arrivato alla storia che era la festa. E ha fatto animatori, come ti ha detto per la festa, tu pensi nel picco, che ti ha detto tre o quattro cose al tempo a garbollo. Fammi capire tu che ti faccio? Tu sei detto che hai detto? Voi che ho detto? Voi tu o vuoi? Un anno, tu muovi? Allora, se c'è la passata, metti i modi, vediamo perché io, facciamo a vedere se questo mio figlio, io mi piace. C'è lì, non è che la sua schiavone, non credo, papà, a posto l'altro. E la serietà di Cristiano, io posso spondare, sono pazzi pazzi pazzi, c'è la foto. Ora, ora se ne hai mai più coronavirus, avanti l'ho scritto per i miei figli. Ma io faccio che io? Faccio il massì! Sono pazzi pazzi, sono pazzi pazzi, sono pazzi pazzi, sono pazzi pazzi pazzi, sono pazzi pazzi pazzi. Non levo peggio, ma metti peggio, non levo peggio, ma metti peggio, non levo peggio, ma metti peggio. Non ce la faccio veramente più, ma lo faccio dove dove gli faccio allora. Stai andando a te noi ci lo manco, sai vedi? E picco la mucca che ero lì, perché non fregono da me. Stai andando da lì non mi faccio la merda, perché capito? Non c'è la quarantena, non c'è la quarantena. Dai Instagram, voca WhatsApp, da WhatsApp, voca messaggio, dai seggio da Instagram. E voi, apri la salata, la cena salata, la salata, la salata, la salata, la salata, la salata. Stai andando da lì, non c'è la pagina. Dai Instagram, voca WhatsApp, da WhatsApp, voca messaggio, dai seggio da Instagram. Dai Instagram, voca WhatsApp, da WhatsApp, voca messaggio, dai seggio da Instagram. Sto capace pazzi pazzi pazzi, ti chiedi un po' no, mo se ne vai più coronaviruz, avanti la scrittofrenia o cipio, andò a faccio Q, ma che da sì? Sto capace la si pazzi, sto capace la si pazzi, sto capace la si pazzi, sto capace la si pazzi. Non levo peggio, ma metti peggio, non levo peggio, ma metti peggio. Sto capace la si pazzi, sto capace la si pazzi, sto capace la si pazzi, sto capace la si pazzi. Sto capace la si pazzi, sto capace la si pazzi, sto capace la si pazzi. Non levo peggio, ma metti peggio, non levo peggio, ma metti peggio, non levo peggio, ma metti peggio. I'm losing it 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 Faccio il massimo! Get your love! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.